La nebbia? La speranza è che resti un fenomeno tanto fuori sede, dopo tutto non siamo nella pianura padana, quanto isolato. Perché se è vero che dotare l'aeroporto d'Abruzzo di una strumentazione più sofisticata consentirebbe di bypassare il problema, è anche vero che il sistema ILS di ultima generazione non si compra con pochi spiccioli, dunque la spesa non varrebbe l'impresa, almeno stando all'attuale, seppure in crescita, volume e traffico passeggeri. In pratica, economicamente parlando, è meno dispendioso annullare qualche volo. Piuttosto, ancora prima della nebbia, bisogna preoccuparsi di mantenerli, i passeggeri, il che significa fare il possibile per continuare il rapporto con Ryanair, visto che il 90% dei voli su Pescara, piaccia o non piaccia, è garantito dalla compagnia irlandese. Il contratto quinquennale scadrà il 31 marzo. Le trattative per il rinnovo sono già in corso, l'esito però non è del tutto scontato, dipenderà dai rispettivi rialzi della posta in gioco. Dunque, nell'immediato futuro, sarà questa la vera nebbia da dissipare. Invece, per quella delle feste che ha lasciato a terra alcuni voli, occorre capire bene perché e a cosa abbiano diritto i passeggeri che hanno subito il disservizio. Cominciamo dalle cause, con il presidente della saga, Vittorio Catone. L'anno 2023 non è partito nel migliore dei modi, abbiamo avuto questo evento matosferico del tutto eccezionale, ci ha comportato dei disagi specialmente su tre operazioni di volo. La strumentazione elettronica, l'aeroporto d'Abruzzo ce l'ha, siamo caratterizzati da categoria 1, quindi siamo una categoria di base. In questo momento non abbiamo dei numeri che ci possono supportare al fine di fare un investimento importante perché la strumentazione elettronica per aumentare le nostre categorie è molto molto onerosa e in questo momento, se consideriamo nell'ultima annualità, abbiamo poche difficoltà collegabili alla nebbia. Per cui in questo momento la nostra infrastruttura non è di livello, non è all'avanguardia quando ci sono fenomeni atmosferici del genere, ma allo stesso tempo non siamo nelle condizioni di poter investire su questo tema. Nei prossimi cinque anni che stiamo riprogrammando proprio in questi mesi, probabilmente oltre all'allungamento della pista, laddove abbiamo dei numeri importanti e consistenti, possiamo approcciarci anche a fare un investimento sul tema delle ILS. A cosa ha diritto un cittadino che magari si vede annullare il volo per nebbia o per altre ragioni? Va fatta una distinzione, quando la cancellazione del volo viene effettuata per una circostanza legata alla compagnia, non solo un guasto tecnico dell'aeromobile, per esempio, il passeggero avrà diritto di richiedere sia la cosiddetta compensazione pecuniaria, che dunque è una cifra di denaro che va da 250 a 600 euro a seconda della tratta, e sia tutta un'altra serie di rimborsi come per esempio pasti, bevande o un eventuale pernottamento. Quando invece c'è una circostanza eccezionale come l'estate, la nebbia di questi giorni, o per esempio una particolare nevicata, la compagnia aerea non dovrà versare la compensazione pecuniaria, ma dovrà comunque rimborsare al passeggero tutti quei disservizi, tutti quei problemi che lui ha avuto, dunque avere un rimborso economico di quanto sborsato, come per esempio per pasti, bevande, ma anche per tornare al punto di partenza. Grazie a tutti.